Una cosa così. Io ero in casa e per fortuna se sono fuori non lo racconto più. Stavo vicino all'entrata, mi si è aperta e io dopo ho tentato di chiuderla, mi sono fatto portare via. Dopo ho solo aspettato di fianco la porta che si calmasse per spingerla per chiudere perché ha durato più di dieci minuti e un quarto d'ora. Questa è stata una cosa terribile, mi ha impaurito. Di solito ci metto tanto tempo perché ho un po' di anni, ho degli acciacchi e penso ai miei acciacchi. Per me la vita è quasi alla fine. Però una cosa così, una cosa così, no, 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 è possibile. Non era mai capitata una cosa così? Ma no, no, queste cose qui capitano solo in America e che mi le fanno vedere per televisione. Per lei c'è un cambiamento climatico? Senz'altro. Per farlo qui. Hai fatto una roba così. Non ci può mica essere altre cose. Oh, 그렇죠. Autore dei sovrapposti